Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua, sono Megaticker, di recente mi avete visto maneggiare dei Joy-Con e bene sì, oggi sono qui per portarvi un altro video per farvi vedere come aggiustare il tasto L del vostro amato Joy-Con l'operazione è molto semplice, ci vuole solo un po' di pazienza per i contattini interni che vedrete sono molto piccoli bisogna munirsi soltanto di qualche attrezzino, ricordo che le viti esterne per svitare il Joy-Con non sono viti normali hanno una testa svasata a 120 gradi, per cui se non avete in dotazione questo cacciavite vi lascerò il link in descrizione potrete scegliere in Amazon diversi kit da veramente pochi euro, una volta fatto l'acquisto poi vi resteranno per le volte dopo delle pinzette sono indispensabili perché dovremo andare a maneggiare dei contatti veramente piccoli ed infine il tasto, il circuito stampato che riporta appunto lo switch che si è danneggiato di ricambio su Amazon io sinceramente non ho trovato il pezzo intero, sono andato su ebay, vi posso magari lasciare in descrizione il link al venditore che si è rivelato veramente affidabile, in due giorni ho avuto il pezzo qui a casa mia e adesso insieme a voi mi accingo a smontare il Joy-Con e provare la sostituzione ovviamente ringrazio Sebastiano, l'amico di mio figlio e sua mamma Rima, che mi hanno permesso di mettere le mani si sono fidati di me per provare appunto ad aggiustare questo Joy-Con ma adesso se vi siete registrati al canale, se avete già lasciato sulla fiducia un like e se avete acceso la campanella possiamo andare e partire con lo smontaggio del nostro controller eccolo qui, questo cacciavite lo possiamo anche mettere da parte perché all'interno poi saranno tutte teste a croce andiamo quindi a separare le due parti, apriamo il nostro Joy-Con ci ritroviamo in questa situazione, quello che è da fare come prima cosa, ricordo sempre, fatelo sempre andate a togliere le batterie in modo da evitare eventuali cortocircuiti durante le operazioni non c'è bisogno di separare questa parte, andiamo a svitare questa padelletta ed andiamo a ribaltare questa parte qui, ovviamente non perdiamo le viti una volta ribaltata questa per avere più accesso ai vari componenti e non avere di mezzo roba penzolante andiamo a sbloccare questo contattino e a tirare delicatamente il circuito stampato così che potremo separare il tasto ZL dal nostro Joy-Con nel caso non aveste visto l'altro mio video dove montavo il kit luce all'interno e sostituivo l'analogico vi dico che appunto se aveste del drift e doveste andare a sostituire l'analogico l'operazione è semplicissima, questi si trovano su Amazon ed infatti io a Sebastiano non ho detto nulla ma gliene ho preso uno un po' perché era rovinato come vedete il tastino ma in realtà anche perché facendo una partita avevo visto che il suo iniziava a driftare la sostituzione di quello è rapidissima, si svita una e due viti questa ovviamente bisogna staccare questo circuito si sgancia questa padelletta con l'unico contatto che vedete essere attaccato al nostro analogico dopodiché si separa, si toglie e non si fa altro che andare a rimettere questo non siamo qui per quello, andiamo invece avanti con la nostra modifica andiamo ad aprire il contattino del circuito che dovremo andare a cambiare prendiamo un attimo le pinzette ed ecco lì che lo possiamo separare comodamente abbiamo tre viti da togliere, una, due e una, tre e come vedete una volta tolto possiamo andare a rimuovere il pezzo incriminato in questo momento voi non vedete qua davanti lo switch perché io precedentemente l'avevo smontato per capire il difetto del tasto ad ogni modo andando ad aprire il circuito che ho comprato di ricambio ve lo faccio vedere anche qua ecco qui ragazzi lo switch che aziona l'L è esattamente questo qui evidentemente schiacciandolo con un po' di foga o comunque il normale utilizzo fa sì che a volte si dissaldi dalla sua piastrina elettronica come vedete per l'installazione bisogna andare a creare questa piegatura ora quindi andiamo subito a farlo giriamo di qui semplicemente dobbiamo andare a piegare su se stesso il nostro bel contatto poi saranno le viti in realtà a tenerlo fermo nella propria sede per comodità levo un attimo il tasto L attenzione a non perdere la molletta che è lì sotto mollettina che vado a recuperare con le mie pinzette me le vado a mettere un attimo lì e adesso possiamo andare a mettere il nostro bel circuito nuovo ok l'ho incastrato non so se la telecamera riesce a farvelo apprezzare il buco resta leggermente decentrato vuol dire che questo pezzo di ricambio non è esattamente come quello nuovo ma ad ogni modo adesso proviamo a mettere la vite e vediamo se si riesce a chiudere il tutto direi assolutamente di sì nessun tipo di difficoltà facciamo solo una prova che questo tastino qua davanti clicchi appunto avete sentito il contatto che è presente dall'altra parte della scheda a questo punto basterà ribaltare lo switch e andarlo a fissare anch'esso con le due viti ragazzi di fatto siamo praticamente già giunti alla conclusione siamo in fase di rimontaggio del tutto operazione veramente semplicissima che mi sento di poter consigliare veramente a chiunque ricordatevi che un joy con costa e invece questo tastino con 5 euro spedito a casa vi risolve assolutamente l'inghippo ecco qua l'abbiamo montato andiamo a montare vabbè per prima cosa andiamo a inserire la schedina al suo posto quindi alziamo il contattino andiamo a prenderla e l'andiamo ad inserire nel suo alloggio gli diamo una spintarella in avanti con le pinzette una volta che siamo sicuri che sia entrato lo andiamo a bloccare con la sua linguetta grigia a questo punto non ci resta che mettere il tasto L andiamo a posizionare la molla qui e questo passaggio è un po' rognosetto ma con un po' di attenzione in realtà si fa facilmente andiamo a mettere la molla nel suo alloggiamento e poi una volta premuta la molla andiamo a mettere il tasto L non so se lo sentite ma lo switch si schiaccia andiamo quindi a rimettere questa parte credo che questo sia il passaggio più fastidioso in assoluto perché il contattino qui dietro è veramente piccolo vi ricordo in questa fase se vi venisse il dubbio che la linguetta deve essere montata vedete qua che ci sono i contatti vivi di rame ok il verso è questo i contatti vivi di rame verso l'alto non fate l'errore di metterla al contrario e andiamo a inserirla all'interno del suo supporto ok facciamo un po' di attenzione l'abbiamo inserita anche qui andiamo a schiacciare la linguetta che lo va a bloccare nella fattispecie linguetta nera per questo contatto e adesso possiamo andare a ribaltare il nostro tasto ZL facendo un attimo di attenzione a non lasciare in mezzo qua tra la plastica e questo contatto elettrico che vedete passare qui davanti ed andiamo a rimettere le nostre vitine ok ragazzi clicchiamo clicchiamo e direi di andare a mettere la batteria non stringete troppo le viti sennò si spanna tutto la batteria vi faccio vedere un'altra cosa che avevo già fatto vedere nell'altro video ma non sono sicuro che l'abbiate visto vedete qui che ci sono due tagliettini sono i contatti dove appunto la batteria va a fornire corrente questi contatti devono essere messi verso il basso verso il basso che vanno quindi poi a far contatto con queste due linguette di rame che vedete qua sotto appoggiatevi pure su una superficie rigida il cavo comunque avrà già una sua piega prendete questa pinzetta che non avete ancora usato e andate a schiacciare ecco lì il contatto nella sua sede assicuratevi che sia messo bene perché poi ci vuole nulla che mentre giocate vi si stacchi a questo punto ragazzi chiudiamo il nostro bellissimo controller ed ecco lì lucette che si accendono tastini che si schiacciano e il gioco è fatto ovviamente vado anche a rimettere le mie quattro viti di chiusura e una volta stretto tutto avrete aggiustato il vostro joy con sarà tornato esattamente come nuovo spero di essere stato abbastanza veloce non avervi annoiato essere stato abbastanza preciso per farvi vedere i passaggi credo che questa pratica possa venire veramente bene a molti perché ne ho sentiti tanti che spaccano questo tastino evidentemente questa saldatura è una saldatura un po' così e spesso e volentieri ripeto lo switch si stacca vendono solo anche lo switch ragazzi io l'avevo trovato ma sinceramente andare a mettermi col saldatore a saldare qui un interruttorino nuovo la vedevo veramente veramente dura per quello che costa il pezzo appunto intero sinceramente vi consiglio vivamente di andare a prendere questo per questo video è tutto ragazzi se vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale come ho già detto prima codice creatore mega ticker per fortnite se mi volete supportare anche in quel modo andate in descrizione dove poi ci sono un sacco di bei link e anche lì troverete modo se vorrete di sostenere il mio canale ancora un grazie a Rima e a Sebastiano ci vediamo alla prossima qua ai mega ticker e ciao 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 ciao